A confronto sul miglio, 7 concorrenti al Bial numero 1, Superstar, Reap, Biagio, Loverde, al 2, Stella di Azzurra, Alessandro Gocciadoro, al 3, Sally Brown, Edoardo Baldi, 4, Sidney F, Roberto Vecchione, 5, Scintilla, Caf, Davide Di Stefano, 6, Sassari, Romolo Sani, 7, Salome, Bar, Giuseppe, Pistone, senza ferie anteriori, Superstar, senza ferie, Scintilla, Caf, con calma, Sassari, prende velocità la macchina, fa partenza Salome, e dall'esterno è velocissima, Salome prende l'iniziativa davanti a Superstar, allargo è Sidney F, più all'esterno Scintilla, Caf, Salome in vantaggio all'imbocco della piegata, davanti a Superstar, Stella di Azzurra, il passaggio ai primi 200 metri in 13,7, con Salome in vantaggio, Superstar a ridosso, poi Stella di Azzurra su Sally Brown, Scintilla, Caf, allargo, il passaggio ai primi 400 metri in 29, Salome a scandire il ritmo, Superstar di rincalzo su Stella, Scintilla che batte corsi esterni, Sally lungo la corda, allargo Sidney F in coda a Sassari, così al passaggio dei 600, poi la mossa esterna di Superstar, più che altro perché Biagolo Verde fa fatica a tenerla in corda, la cavalla è molto ardente, 643,7 sul mio cronometro, penultima curva con Salome in vantaggio, Superstar che torna a parcheggiare, si è un po' calmata, 59,9 gli 800, Stella di Azzurra in terza posizione con allargo Scintilla, Caf, sulla retta opposta alle tribune, Salome, Superstar, poi Stella, è arrivato il momento dell'attacco, Superstar si proietta su Salome e la incalza, il chilometro in 1,14, poi Stella con allargo Scintilla, ancora Sidney F che attende a mettersi in moto, lungo la corda Sally Brown che precede Sassari, mancano 400 alla conclusione, l'ultimo paletto in 13,8, Salome alla corda, allargo Superstar, in corda c'è Stella su Scintilla, prova allargo Sidney F all'ingresso della retta di arrivo, Salome, Superstar che attacca, Sidney che prova ad affacciarsi in terza, poi ancora Stella di Azzurra, Salome si arende definitivamente, Superstar è passata, c'è l'attacco di Sidney a contatto Stella, Sidney F va ad impegnare Superstar e passa in vantaggio di dentro, filtra Stella di Azzurra, le battute conclusive sul palo, Sidney davanti a Stella e Superstar Reaf, dunque Sidney F non corriva da metà luglio, ma si ripresenta al meglio e trova anche un'occasione propizia, ma insomma di propizio c'è anche il, diciamo, ci sono anche le sue qualità perché si chiude in 1,56,8, siamo su una media nell'ordine dell'1,13 scarso, Sidney F vince e convince in questo rientro, bene bene anche Stella di Azzurra, direi tutto sommato bene anche Superstar che non ha potuto impostare il più gradito percorso all'avanguardia e forse lavorando molto sulle guide e sul morso, alla fine la cavalla si è un po' così stufata, però insomma alla fine fa la sua parte anche lei. Grazie a tutti.